Sì, sicuramente questa vittoria è quello che serviva, quello che dovevamo fare. Siamo veramente molto molto contenti, abbiamo dato una grande prova, penso, di carattere, di forza e la vittoria 3-0 era quello che ci valeva soprattutto per riprenderci appunto dalla sconfitta in Coppa Italia che ci ha segnati molto, ci siamo rimessi a lavorare come abbiamo sempre fatto e oggi è andata bene. Sì, è vero, durante l'andata troppo spesso abbiamo avuto dei momenti in cui, diciamo di buio, in cui perdevamo un sacco di punti e dopo recuperarli era difficile oppure magari eravamo lì vicine e non riuscivamo a concludere il set. Oggi, secondo me, abbiamo fatto una grandissima partita perché abbiamo lottato su ogni pallone, non abbiamo fatto cadere niente a muro, siamo state ordinate, abbiamo toccato tanto e quindi è funzionato poi anche il gioco, eravamo più sicure anche poi una volta che andavamo ad attaccare, quindi è stato un grande lavoro di squadra. Grazie.